Sai come la penso, eh? Da cosa nasce cosa, fidati! Ci scopriranno subito. Sarà un'esperienza top! O nelle ultime settimane non ti è capitato niente se non la colite del gatto, eh? Mi chiamo Gaetano e faccio l'attore e ho una storia da raccontarvi. Ma non lo vedi che questo è matto? A te serve un'idea creativa forte. A me un passaggio a Roma per un provino importante. I viaggi sono belli quando le persone sono loro stesse. Miccio, come va? Non deludermi, eh? Mi farete impazzire, che gli dico adesso? Goditi di più la vita. Te l'ha mai detto qualcuno che si è sprecato come attore? Dovresti fare il life coach, caro mio. Soffro di angioedema ereditario. Angio che? Anni fa vivevo con l'ansia degli attacchi. Passavo tutto il tempo del mondo ad aspettarli. Non partivo mai con i miei amici. Io restavo a casa, mi dicevo e se stai male che fai? E poi tutto il tempo del mondo me lo sono ripreso. Però posso dirti una cosa? A me tutto questo che me lo restituisce. Anni mazza... Anni mazza! Grazie a tutti.